Omega Simaster Planet Ocean, tecnologia e eleganza marina Nel mondo affascinante dell'orologeria di precisione, il modello Simaster Planet Ocean brilla come una gemma di funzionalità subacque e design sofisticato. Questo straordinario orologio coniuga l'avventura marina alla tecnologia avanzata, rappresentando il connubio perfetto tra stile e performance. Il modello Simaster Planet Ocean è frutto di un impegno costante nell'esplorazione marina e nella maestria orologera. Questo orologio è stato appositamente progettato per affrontare le sfide delle profondità subacquee, offrendo una sintesi impeccabile tra design marino e tecnologia di alto livello. Una delle caratteristiche distintive del modello Simaster Planet Ocean è il suo design elegante e funzionale. La cassa, spesso realizzata in materiali resistenti come l'acciaio inossidabile o titanio, riflette l'attenzione all'ingegneria di alta qualità. Il quadrante, con marcatori luminosi e finiture raffinate, incarna l'essenza dell'esplorazione subacquea. Tra le complicazioni visualizzabili sul quadrante dell'Omega Simaster Planet Ocean ci sono il datario Aore 3 e il GMT. È stata creata una versione speciale per la Coppa America di vela che presenta una ghiera girevole. Dal 1995 l'Omega con i suoi Simaster è diventata il partner ufficiale dell'agente segreto britannico James Bond. Da questa collaborazione sono nate edizioni speciali dedicate proprio a 007. Il design del modello Simaster Planet Ocean è stato studiato per resistere alle sfide dell'ambiente marino, mantenendo allo stesso tempo uno stile senza tempo. La sua impermeabilità e la resistenza agli urti testimoniano l'impegno per l'affidabilità anche alle profondità oceaniche. Oltre al suo design elegante, il modello Simaster Planet Ocean offre una precisione di cronometraggio ineguagliabile. Il modello Simaster Planet Ocean è stato indossato con orgoglio da celebrità e appassionati di immersioni che apprezzano la sua combinazione di eleganza e funzionalità. Molte celebrità famose hanno scelto il Simaster Planet Ocean, contribuendo ad incrementarne la notorietà. Il modello Simaster Planet Ocean va oltre il concetto di semplice orologio, è un compagno ideale per l'esplorazione marina che incarna l'essenza dell'avventura e della precisione orologera. La sua storia di eccellenza, il design sofisticato e la tecnologia all'avanguardia lo rendono un'opzione ambita per gli amanti dell'immersione. Che sia utilizzato per le immersioni o come accessorio quotidiano, questo orologio sarà sempre un simbolo dello spirito esplorativo e dell'apprezzamento per l'arte orologera di alta qualità.